E' stato ucciso a colpi di mitra e pistola a Villapiana, nel Cosentino, Leonardo Portoraro, 63 anni, originario di Cassano all'Oionio, ritenuto uno dei boss dell'Andrangta della Sibaritide. L'omicidio è avvenuto questa mattina nei pressi di un ristorante a Villapiana Lido. L'uomo è stato affiancato da un'auto con a bordo il sicario o i sicari che hanno aperto il fuoco senza lasciare scampo alla vittima la cui morte è stata istantanea. Sul forse il ciato ci sarebbero numerosi bossoli, almeno una trentina. Leonardo Portoraro, originario di Cassano all'Oionio, risiedeva da molti anni a Francavilla Marittima, uscito dal carcere pochi anni fa. Negli anni Ottanta era considerato un appartenente al clan Cirillo. Un fratello di Portoraro, Giovanni, venne ucciso quando aveva 34 anni in un agguato compiuto nel 1992 a Cassano all'Oionio, delitto che fu inquadrato nella guerra di mafia tra le cosche attive all'epoca della zona. Lo storico boss della Sibaritide era ritornato in carcere nel luglio 2006 a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Catanzaro per un residuo di pena di un paio di anni relativo all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Reato per il quale Portoraro era stato condannato al termine del processo Galassia, un procedimento giudiziario figlio della maxioperazione firmata a metà degli anni 90 dalla DDA di Catanzaro contro le cosche della Sibaritide del Cirotano. Le indagini sull'omicidio sono svolte per competenza dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Catanzaro.